L'esercito ucraino avrebbe affondato una nave da sbarco russa nel Mar Nero. La Caesar Kunikov è affondata vicino ad Alupka, una città nel sud della Crimea, secondo quanto ha dichiarato lo Stato Maggiore Ucraino. La Russia non ha ancora confermato la notizia, ma secondo i blogger militari, la nave sarebbe stata effettivamente colpita e Kiev ha diffuso un video dell'attacco. È la seconda volta in due settimane che le forze ucraine affermano di aver affondato una nave russa nel Mar Nero. La settimana scorsa hanno pubblicato un video che mostrava l'assalto alla corvetta russa Ivanovetz. La stessa unità per le operazioni speciali che ha colpito Ivanovetz il primo febbraio scorso, il gruppo 13, è responsabile anche del nuovo attacco. Caesar Kunikov, da cui l'imbarcazione russa ha preso il nome, è stato un eroe sovietico della Seconda Guerra Mondiale. È morto il 14 febbraio 1943, lo stesso giorno dell'attacco ucraino. Grazie. Grazie.